Teramo Comics spegne 30 candeline, un evento che sempre di più è cresciuto diventando un punto di riferimento per tutti gli appassionati di fumetto, un anniversario particolare che sarà festeggiato all'insegna della tradizione ma anche del rinnovamento, anche quest'anno all'Università di Teramo dal 10 al 12 maggio. Un rapporto importante quello con l'Ateneo che è diventato sempre di più al centro di un sodalizio che porta a un numero sempre crescente di ragazzi in fiera. La fiera deve essere inclusiva, quindi non deve essere un casino, deve essere una festa in cui gli invitati, almeno quelli che conosco io, quelli che ho avuto l'onore di avere sia come insegnanti che come amici, come Maurizio Di Vincenzo, Marco Soldi, insomma Valerio Piccioni, Nova perché rappresenta la generazione successiva, quindi la festa alla quale abbiamo invitato un po' di amici è proprio una festa vera e propria. La caratteristica di questa fiera è la presenza di tavole originali, sempre più difficilmente si vedranno, perché spostandosi molto sul digitale, non ti dico che si perderà la possibilità di vedere i tavoli originali, ma non sarà così scontato, quindi sarà forse la parte logisticamente un po' più complessa, però ci sarà una mostra veramente di un certo livello meravigliosa. Quindi tante chicche? Sì, per gli appassionati sì, perché per non far torto a nessuno è inutile citare i nomi degli autori che saranno esposti, però sono tutti autori che sono legati fortissimamente a Teramo, abbiamo raccolto un po' di forze, ciò abbiamo cercato di essere il più aderenti possibile è alla coerenza, il focus è la festa di Teramo, della fiera di Teramo, di Teramo Comics. Trentesima edizione per il Teramo Comics, oramai un'istituzione non solo a Teramo, ma soprattutto qui in università, ritorna anche quest'anno, quali sono le novità? Le novità sono dal punto di vista della proposta che offriamo agli avventori, all'arricchimento del lato fumettistico, da quest'anno ci avvaliamo della preziosissima collaborazione di Alba di Ferdinando, Terramanadoc, che ti potrà illustrare meglio gli aspetti fumettistici, in più abbiamo arricchito l'offerta gaming, l'offerta cosplay sarà sempre culminante nella gara cosplay della domenica, insomma ci siamo impegnati a confermare per questa teresima edizione tutti gli aspetti che hanno portato ai successi delle precedenti edizioni, culminate nel sodalizio con l'università. Grazie. 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 Grazie.